stasera pizza la terza dose mi ha fatto venire appetito meno male che c'ho le donne che fanno la pizza qua questa è le patate con pomodoro zucca e salsiccia quello mi hanno detto che è una specialità e pecorino e pecorino buono bene bene dopo ce le gustiamo come dio comanda che mo sono super sono super grissi super greci green sono superman ho fatto la terza dose e ci sta prosciutto cotto funghetti e valla ok un appetito work in progress